Oh Andrea, hai capito questa storia del Vertical Movie, tutta una roba interessante sul cinema nuovo? Bravissima, è super interessante perché è una nuova visione del cinema, vedere il cinema in verticale quindi anche sul telefonino senza dover girare. Però anche l'idea un po' mistica del fatto che noi siamo donne verticali per cui siamo tutte ad un pezzo e entriamo nel profondo. Ma quanto sei intelligente! Ma questo Vertical Movie quando è? Ah, dal 20 al 23 in Piazza del Popolo e indovina qual è la radio partner? Ho un'idea, Radio 2. Però ma che è? Le scarpe! Le scarpe? Ah ma tanto è bezzo busto no? Ma che bezzo busto? Che è del verticale? Rifacciamola subito! Anche se lo siamo andato a me visto bellissimo. Bellissimi piedi, bellissimi piedi però. Radio 2. Radio 2.